ciao ragazzi oggi sono veramente rincoglionita non so perché il primo video che ho provato a fare ho iniziato a farlo provando a parlare inglese è venuto uno schifo in realtà ero troppo di fretta e voglio volevo dirvi un sacco di cose infatti nel mio canale inglese che vi invito a vedere avevo parlato ieri del vita bildung che sarebbe una sorta di riqualificazione cioè se per esempio una persona è ingegnere meccanico può studiare degli altri software o dei software di cui ha una conoscenza veramente di base e costa tantissimo oggi invece volevo parlarvi ancora di un altro progetto che si chiama musculung questo leggermente diverso perché praticamente è per cambiare lavoro quindi voi avete già un'esperienza professionale e volete cambiare lavoro per esempio sono ingegnere meccanico ho qualche esperienza così di base di logistica però vorrei affrontare di più il discorso della programmazione quindi oggi andrò in un altro istituto a vedere ea capire un po per quanto riguarda la programmazione ma questa scuola offre anche un pacchetto un pochettino più ampio si apre anche un po il controllo di qualità se ho capito giustamente all'elettronica e quindi dovrò andarci a parlare perché veramente ho ricevuto soltanto un po di informazioni così sommarie e ho visto un video in cui mi invitavano in questa scuola sembravano molto gentili perché nella precedente non hanno fatto una gran figura ho telefonato probabilmente il segretario era molto arrabbiato non so cosa gli fosse successo quel giorno mi ha detto guardi che esistono altre scuole e poi quando ho parlato con un collega appunto detto ho detto tutto ho parlato del suo comportamento e gli ho detto guardi che io ho studiato in italia repubblica cieca e anche nella vostra nazione nelle università popolari so bene che esistono altre altri tipi di scuola infatti la persona in questione si è scusata a nome del collega perché il collega ha fatto una figura di merda cioè a me non piace essere umiliata dal punto di vista della scuola quando vado a scuola dal 1986 la repubblica cieca era ancora socialista e reagan stava ancora benone eccetera quindi adesso andrò a informarmi e vi farò sapere probabilmente vi farò sapere non domani non oggi ma penso dopo domani se avrò tempo così ho tempo anche di guardare un po le informazioni mi raccomando iscrivetevi al mio canale inglese perché ci sono le altre informazioni ho fatto apposta per l'un shulung guardate il mio canale inglese quindi andate per favore scherzo normalmente io non amo dire iscrivetevi al mio canale ma oggi faccio un'eccezione cioè odio farlo non so perché mi sembra di di supplicare le persone quindi non lo faccio mai per il resto spero che vada tutto bene che non mi urlino dietro io vi mando un bacione mmm